Asta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal distopico futuro ed eccoci qui oggi in un nuovo mitico episodio della serie su Dragon Ball Xenoverse 2. Eccoci qua ritornati con il nostro caro pattugliatore temporale assieme alla simpaticissima mascotte di Riff e oggi ragazzi andremo a fare una cosa che sinceramente non ho mai fatto prima e non ho mai toccato prima e voi giustamente vi starete chiedendo cosa sarà mai? Allora è una cosa appunto che non ho mai approfondito, è una roba che c'è già nel gioco che si può fare praticamente dall'inizio del gioco ma io sinceramente non mi sono mai approcciato a questa roba qui perché pensavo fosse una perdita di tempo o comunque procrastinavo e quindi dicevo vabbè lo faccio la prossima volta la prossima volta oppure comunque lo farò in futuro e quindi non l'ho mai fatto e quindi adesso e dopo tanto tempo ci ritroviamo che sono ancora qui senza aver fatto ancora questo tipo di evento di cosa sto parlando? Di quale evento sto parlando? Adesso vi spiego tutto ragazzi avete presente che in Xenoverse 2 ci sono appunto ogni tanto casualmente questi eventi allenamento? Ecco magari voi li conoscete benissimo, li avrete appunto giocati, li avrete fatti più più e più volte bene, io non l'ho mai fatto, non mi sono mai approcciato perché mi sembrava all'inizio un po' una cagata una cosa molto spicciola che appariva casualmente, ok era un po' più rara delle altre missioni che c'erano da fare però per non perdere tempo, per andare spedito con tutte le missioni che c'erano da fare che c'era il devasto da fare qui a Conton City all'inizio con tutte le varie icone di tutti i personaggi quindi non si capiva una madonna e adesso che il tutto si è tranquillizzato possiamo finalmente dedicarci a questa roba qui ovviamente adesso non c'è appunto la schermata, non mi è ancora apparso nulla però appunto se vado a fare una missione, magari anche una missione parallela, leggera, una facile probabilmente quando finisco mi appare questo avviso, questa finestra che mi dice appunto che è disponibile questo evento allenamento o per Yamco o per Yamcha come vogliamo chiamarlo o per Krillin, io mi ricordo che diciamo questi maestri erano due e quindi non so poi cosa ci faranno fare cioè nel senso mi è sempre apparsa questa finestra, questo avviso ma poi sono andato sempre avanti a fare altre cose quindi non sono andato lì a procedere, a vedere che cavolo succedeva e quindi adesso è il momento di farlo ma fermi tutti, prima di cominciare, se non volete essere terminati all'istante mi raccomando ragazzi ad andarvi a recuperare, se non lo avete visto lo scorso episodio di Xenoverse 2 in cui semplicemente siamo andati a provare degli abiti super rari quelli di Pilaf e quelli appunto di Yako che avevamo sbloccato dando da mangiare ai figli di Majin Buu quindi ragazzi vi lascio la scheda qui in alto e il link in descrizione allora al momento non ci sono questi eventi allenamento attivi potete anche controllare qui ragazzi sulla mappa sulla mia mappa di Conton City e come vedete non c'è praticamente quasi nulla e quindi non ci sono eventi allenamento perché si sbloccano casualmente soprattutto dopo aver fatto qualcosa quindi una missione, storia o parallela o che ne so una missione esperto o qualsiasi cosa io mi ricordo che si sblocca casualmente quindi che vado a fare adesso? vado subito verso le missioni parallele che si trovano appunto qui sotto me ne vado a fare qualcuna fin quando non esce la finestra appena esce quella finestra lì subito blocco tutto quanto e partiamo da lì quindi vado, vado a giocarmi una missione parallela ragazzi tipo una delle prime qui, quelle proprio facilissime tipo a partire dalla seconda e vedo un po' se appare la finestra ok ragazzi missione parallela finita vediamo se appare appunto la finestra se no ci riprovo fin quando non esce dai speriamo bene, vediamo se è uscita così possiamo procedere attenzione ok non succede nulla credo sì se no sarebbe apparsa subito la finestra quindi ci riprovo subitissimo ok ragazzi anche qui missione parallela completata vediamo se siamo fortunati e appare appunto questo cavolo di avviso perché non so quante missioni parallele debba fare prima di farlo uscire attenzione potrebbe uscire no non esce ci devo riprovare riaccomi qua ragazzi ho fatto la terza volta la stessa missione parallela vediamo se siamo fortunati stavolta ed esce questo cavolo di messaggio quando lo vuoi non esce mai vediamo un po' no bene vediamo un po' ragazzi ci siamo ci siamo ragazzi sì ci siamo riusciti l'avviso è apparso dopo quattro missioni parallele numero due quindi la missione appunto numero due a partire dall'inizio quindi Yamcha offre una lezione speciale al distretto turistico era proprio quello che intendevo in passato mi appariva più e più volte questo messaggio ma lo ignoravo sempre quindi vediamo di cosa si tratta quindi faccio ok e quindi ragazzi adesso possiamo andare vediamo un attimino sulla mappa allora come possiamo ben vedere lì sotto in basso c'è un'isoletta staccata dal resto di Conton City poi accanto c'è anche la piattaforma su cui c'è il teletrasporto per andare all'astronave di Freezer ma appunto sopra l'isoletta soprattutto c'è un logo un rombo giallo con un kanji all'interno quindi quello lì è l'evento allenamento quindi dobbiamo praticamente andarci subitissimo e dovrebbe essere praticamente di qua esatto non l'ho mai fatto ragazzi quindi è tutto nuovo per me magari per voi non lo è ma per me sì intanto prendiamo questo oggetto qui ragazzi raccogliamo piove a gigante ci sta ragazzi poi la diamo ai figli di Majin Buu sicuramente comunque ecco qua Yamcha ecco dove si nascondeva e ha sulla testa praticamente il simbolo proprio dell'evento allenamento quindi parliamoci e vediamo di cosa si tratta quindi sono bello in hype ragazzi magari può essere anche una cavolata però non avendolo mai fatto è una roba interessante quindi parla vediamo un po' che ci dice? oh ciao capiti al momento giusto puoi darmi una mano? ma certo ragazzi siamo qui per questo per fare quello che ci chiede insomma se c'è da fare qualcosa lo faremo quindi vediamo non preoccuparti non è niente di complicato sto provando un nuovo metodo di addestramento quindi ok interessante chissà di che addestramento si tratta vuoi sapere che tipo di addestramento è? mi ha letto nel pensiero ragazzi eh 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 ti accontento va bene dimmi dimmi si tratta di un addestramento creato dal maestro Muten ok quindi dal genio delle tartarughe lo usano anche Goku e Krilin ok interessante probabilmente ci riferiamo al periodo in cui Goku e Krilin erano piccoli nella prima serie di Dragon Ball in cui si allenavano appunto col maestro Muten con il genio eh sull'isola o appunto da quelle parti comunque quindi vediamo si chiama caccia alle pietre della tartaruga quindi ragazzi devo cercare di ricordare sto nome quando mi riferirò a questo evento qui quindi caccia alle pietre della tartaruga e questa cosa qui mi ricorda vagamente un qualcosa che è successo appunto nella prima serie di Dragon Ball inerente sempre Goku e Krilin che avevano a che fare con delle rocce con delle pietre insomma quindi allora ti può interessare sì ragazzi ovviamente lo facciamo pietre della tartaruga quindi ci esce proprio la scheda mai uscita prima sta roba qui Yamcha ti farà allenare facendoti recuperare delle pietre della tartaruga quindi se solo questo dovrebbe essere semplice in teoria sparse per Conton City se le raccoglierai rapidamente riceverai delle ricompense più interessanti quindi ok devo fare presto ci sarà il tempo il timer tipo all'interno della città possono apparire delle pietre della tartaruga quindi dall'immagine vedo che sono degli oggetti luminosi, celesti come quando raccogliamo gli oggetti i cibi, le capsule per terra ok insieme a vari oggetti questo significa che oltre agli oggetti che troveremo in giro troveremo appunto anche queste pietre della tartaruga quindi ragazzi dobbiamo stare attenti perché se c'è il tempo e appunto ci sono anche gli oggetti ci faranno perdere tempo queste cose qui perché troveremo l'oggetto e non sarà quello dobbiamo andare a prendere queste pietre della tartaruga non so neanche quante sono quindi avvicinati e usa cerchio per raccoglierle cosa più semplice non c'è quando hai completato l'allenamento vai a parlare con Yamcha ovviamente me lo aspettavo quindi chiudi ok Yamcha dice come dici vuoi provare la caccia alle pietre della tartaruga in realtà non ho detto niente tu stai dicendo tutto però sì diciamo in realtà voglio partecipare comunque sì va bene lancerò queste pietre della tartaruga per completare l'addestramento devi riportarne almeno uno quindi solo uno ragazzi credo o forse anche di più non lo so comunque quindi le deve lanciare lui queste pietre non devo andarle a cercare io diciamo in modo normale nel senso che stanno già in giro e quindi le devo solamente recuperare no le lancia lui appositamente a quanto pare quindi ok più pietre della tartaruga trovi più punti otterrai riportane il più possibile va bene vai oh e non partecipare a nessuna battaglia durante la caccia altrimenti l'addestramento si concluderà quindi non possiamo fare missioni storia missioni parallele esperto eccetera eccetera perché si interrompe tutto quanto quindi è ovvio diciamo che me lo immaginavo vediamo attenzione attenzione ragazzi bene iniziamo sto per lanciare le pietre quindi preparati andiamo ok che cazzo fa ok la lancia tipo lontanissimo ragazzi ok vedo lì a destra pietre tartaruga zero su una quindi ne dobbiamo prendere solamente una stavolta forse le prossime volte potrebbero essere di più qui dice la ricerca delle pietre della tartaruga e la sessione di allenamento verranno interrotte se partecipi a una battaglia o a una missione quindi non faremo nulla ragazzi ovviamente per non interrompere il tutto quindi ok e dobbiamo andare semplicemente ragazzi quindi guardiamoci attorno io ho visto che l'ha lanciata di là qui non vedo nulla quindi sarà andata sicuramente ragazzi laggiù quindi dobbiamo stare attenti vediamo un attimino non so se sarà facile o difficile spero non ci sia il tempo se no mi rende il tutto più ansioso più brutto quindi magari volando la troviamo prima guardando dall'alto è più semplice ok qui non vedo nulla vediamo vediamo lì c'è un oggetto anzi ci sono vari oggetti ragazzi quindi devo stare attento controlliamo anche gli oggetti vediamo oddio ce l'ho fatta ragazzi ma come cavolo ho fatto c'erano altri tre oggetti da quella parte dovevo andare a prendere anche quelli hai trovato una pietra della tartaruga allora l'hanno reso semplicissimo ok hai tutte le pietre della tartaruga che ti servono ora vai da Yamcha pietre tartaruga uno su uno qui abbiamo altri oggetti pensavo fossero tipo questi ah ne ho trovati degli altri ragazzi quindi sono tutte pietre due su uno ok ah sono tutte pietre pensavo fossero oggetti oddio allora ne prendo delle altre qui abbiamo un altro oggetto vediamo ah sono tutte pietre ragazzi quindi è quasi cioè quasi comico cioè ne devo prendere solamente una ma appunto ne trovo tantissime in giro perché cioè mi sto dando da fare semplicemente andando in giro cioè vado in giro le trovo pensavo fossero oggetti cioè come faccio a sapere senza non è che posso vedere attraverso ecco quindi pensavo fossero oggetti dai vediamo se ne trovo delle altre eccole qua ragazzi delle altre adesso le prendiamo comunque della serie lì ce ne vuole solamente una e noi sfondiamo tutta la schermata lì 5 su 1 addirittura tutto fatto a cavolo ragazzi ne prendiamo tantissime comunque è facilissimo perché non c'è neanche il tempo sono tutte pietre della tartaruga vedete ok arriviamo almeno a 10 tanto che me frega ragazzi penso che mi dia un bonus un qualcosa di particolare vedo che siamo arrivati praticamente a 9 facciamo 10 e basta e poi andiamo a riportarle indietro voglio vedere la faccia che fa Yamcha appunto quando vede che abbiamo preso tutti questi oggetti qui nell'acqua c'è qualcosa vediamo ok siamo arrivati a 10 ragazzi possiamo ritornare all'ovile quindi torniamo da Yamcha voglio vedere la faccia che fa tra l'altro lì il numero invertito abbiamo 10 e poi slash 0 1 quindi in reverse quindi vediamo che ci dice ok Yamcha dice z z cos le hai trovate le pietre oh no ok ci stai mettendo troppo tempo vuoi impegnarti almeno un po' a finire come ci stai mettendo troppo tempo è vero che ci ho messo un po' più di tempo ma almeno ragazzi ne ho prese 10 non una quindi vediamo che dice ok medaglie pattugliatore temporale ricevute 5 ok ragazzi non me l'aspettavo perché non l'ho mai fatto quindi ti danno anche le medaglie pattugliatore temporale quindi buono 5 sono poche però ecco meglio di niente allora non è stato un allenamento fantastico fa bene ogni tanto allenarsi sodo questo è vero che altro ci dice torna quando vuoi per qualche lezione normale e nel frattempo impegnati nei tuoi doveri di pattugliatore temporale quello sempre ragazzi siamo sempre pattugliatori temporali non finiremo mai di proteggere con Tom City a presto ok e quindi ragazzi ci lascia così quindi adesso diventa un maestro normale dice sempre le stesse cose quindi niente di che e quindi ragazzi è sparito tutto è sparita anche la schermata qui con appunto scritto pietre della tartaruga ed è stato bello è stato carino cioè è stata una roba semplicissima a livelli assurdi però ragazzi se posso dirvi mi sono divertito una roba nuova fresca ci siamo presi le medaglie pattugliatore temporale abbiamo fatto questa nuova esperienza che dire poi ragazzi c'è anche da ricordarsi che c'è l'altro evento allenamento quello di Krilin ok potremmo farlo in futuro questo qui di Yamcha per vedere se aumenta la difficoltà roba così no quindi se capita nuovamente magari vi porto un altro episodio però il discorso è che c'è anche quello di Krilin che potrebbe essere un'altra roba non lo so non ho mai visto nulla del genere quindi potrebbe essere un altro tipo di allenamento con Krilin e io so che escono solamente questi due tipi di allenamenti quello per Yamcha e quello per Krilin non credo nescano degli altri di questo tipo quindi insomma staremo allerta e prossimamente ragazzi in qualche prossimo episodio vi porterò anche diciamo una roba come questa però fatta con Krilin quindi andremo a fare anche l'evento allenamento con Krilin e vedremo un po' come sarà e quindi ragazzi che dire oggi semplicemente siamo andati a provare per la primissima volta questo evento allenamento di Yamcha non lo avevo mai fatto prima ed è stato diciamo un pochino interessante è stato molto facile fresco diciamo molto easy proprio così lo abbiamo fatto proprio senza pensarci prendendo queste pietre della tartaruga e appunto ragazzi è la cosa che fa ridere che ne serviva una ne abbiamo presi 10 ma giusto così anche per vedere come funzionava prenderne una cioè sarebbe durato troppo poco insomma dopo aver rimandato per tanto tempo quella roba lì adesso ragazzi che l'abbiamo fatta ce la siamo tolta davanti non avete idea della soddisfazione che sto provando a questo punto il video è giunto al termine mi raccomando ragazzi fatemi sapere un po' che ne pensate di tutto questo episodio fatemi sapere se appunto sapevate di questo evento allenamento con Yamcha se appunto lo avevate già completato tanto e tanto tempo fa ve lo siete diciamo tolti subito davanti oppure magari non l'avete mai fatto lo avete ignorato come ho fatto io fatemi sapere tutto quello che volete io spero che questo video vi sia piaciuto se volete lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò grazie a tutti Grazie a tutti.